buongiorno amici tartufai oggi mi trovo in una postarella una piccola tartufaia e sono un po arrabbiato sì perché è da tantissimo tempo che spiego tutto a tutti soprattutto i miei soci che i buchi vanno chiusi vanno chiusi per diversi motivi il primo è che se io lascio un buco aperto quando poi piove si crea una pozza d'acqua e cosa succede che la radice marcisce e quindi l'anno dopo non troverò più il tartufo secondo motivo il proprietario pensate sia contento di trovare tutte queste buche nel proprio terreno non gli diamo un tartufo non gli portiamo una bottiglia natale non gli facciamo un regalo gli lasciamo solo un disastro arriviamo con le macchine fin sotto la pianta lasciamo le rotaie con le gomme e gli lasciamo tutti i buchi il prato devastato e che cosa succede cosa succede assolutamente che il proprietario l'anno dopo taglia la pianta dice basta io dei tartufai non ne posso più taglio la pianta così non ci vanno più è veramente creiamo un disastro nella natura perché le piante sono pochissime sono rimaste davvero pochi i tartufi ogni anno stanno diminuendo e quindi è veramente una grandissima stupidaggine fare questo adesso vi faccio vedere questo campo sono arrivato ora e vedete che disastro ma poi un altro motivo qual è un altro motivo è quello che se io arrivo in una tartufaia che magari non avevo ancora visto buchi eccetera me ne vado via e poi ci torno dopo tempo se io invece arrivo in una tartufaia e vedo che tutta trivellata dico ma allora sta tartufaia sta dando i tartufi ci sono ci vengo giorno e notte e così succede e quindi gente ne viene giorno e notte giorno e notte perché perché siamo stupidi e non chiudiamo le buche adesso vi faccio vedere guardate qua guardate come chiudono le buche no questa qua allora ci buttano dentro quattro foglie vedete quattro foglie ci buttano dentro un po di terra e questa secondo loro è la chiusura della buca to fanno così eccetera guardate questa qua guardate che disastro guarda qua guarda cosa serve buttare questa zolla di erba con un po di terra guarda guarda che roba e secondo voi questa buca qua sarebbe chiusa guarda che roba ma guardate quante profonda e niente ci buttano dentro le cose così e loro sono contenti poi io passo delle mezz'ora intere a chiudere le buche degli altri guardate questa guardate qua ci ha buttato le foglie dice è chiusa e non vedi è chiusa e purtroppo devo dire la verità non sono i giovani non sono i giovani perché i giovani sono attenti a queste cose sono più che altro gli anziani perché io so questi posti chi li frequenta e ad esempio questo posto qua non è frequentato dai giovani ma è frequentato da anziani che sono una vita anche ci sono persone che anche sono più di 50 anni che vengono a tartufi però sono abituati ancora all'epoca che tanto sì non chiudo una buca ma tanto di tartufi è pieno ce ne sono ovunque no e invece non è più così magari quando erano giovani loro ad oggi se io non chiudo una buca del genere qua che cosa succede mi si riempie d'acqua questa ratice qua marcisce con tutti i suoi filamenti e il prossimo anno quel tartufo non lo trovo più poi mi chiedo anche un'altra cosa ma è il caso di fare delle buche così grandi enormi per togliere dei tartufini da 10 grammi perché qua ci saranno dei tartufi da 10 grammi guardate questo ci saranno dei tartufi da 10 grammi cioè ma non ci allarghiamo troppo perché se io ad esempio ho questa buca il mio tartufino era qua qua ma magari quest'altra radici qui ce ne erano altri piccolini che sono tartufi che verranno fuori adesso siamo novembre magari che verranno fuori a dicembre ma se io mi allargo così tanto è vero che diminuiscono le possibilità di rovinare il tartufo di romperlo però cribbio ho rotto tutti i tartufini che c'erano qua intorno che sarebbero stati i tartufi di dicembre perché di solito una radice non ha solo un tartufo ne ha diversi quindi facendo queste buche immense distruggiamo tutto no poi ci lamentiamo che non ci sono più i tartufi adesso io mi fermerò qua passerò mezz'ora vado a prendere della terra qua vicino nel bosco qua vicino e chiuderò tutte queste buche ma tanto poi domani ritorno e cosa succede che le buche sono di nuovo tutte aperte perché invece tutti quelli che hanno i cani novelli il cane novello non capisce che il tartufo è già stato tolto scavano buttano la terra dappertutto e il proprietario se ne frega perché tanto deve correre più va e più trova tartufi più guadagna e quindi lascia la buca aperta e dice poi la chiuderà qualcun altro o magari passa luca la chiude luca che tanto non c'è niente da fare vabbè comunque niente oggi sono arrabbiato per questo devo passare qua una mezz'ora abbondante a chiudere queste buche invece di andare a cercare e quindi niente io tutti gli anni faccio queste raccomandazioni ma veramente servono a nulla a nulla 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 spero che voi che guardiate il video possiate capire e almeno non comportarvi in questa maniera buona giornata a tutti